Aspetta, Antonello, scusa, aspetta, Anto, mi puoi far vedere il replay per favore del fallo? Attenzione, vediamo, poi intervento del portiere ed era rigore, era rigore netto, abbiamo visto rigore netto sul portiere. Attenzione, tiro, gol, Antonello, ancora lui, esultanza col capitano, corso, grande gol di questo giocatore che addirittura cerca posto nell'esercito.